Sono entrati presumibilmente prima della chiusura, quindi intorno a l'una di notte hanno iniziato a distruggere redi, scassinare serrature e porte, fuggendo nella notte. A tre giorni di distanza dai fatti, i vertici del Copit hanno ricostruito quanto accaduto tra giovedì e venerdì scorso nel deposito di via Cigliegiole a Pistoia. Le immagini ad infrarossi delle telecamere hanno ripreso due o forse quattro uomini a girarsi tra i due piani della struttura dopo aver manomesso il sistema di sicurezza. Ovviamente non facciamo nessun tipo di ipotesi, non tocca a noi, ci sono le forze dell'ordine al lavoro per capire quello che è successo esattamente. Facciamo la valutazione di un'azienda che ha subito un danno e che aspetta di capire quello che è successo esattamente perché è un episodio che merita di essere forse un pochino approfondito e capito meglio. L'allarme è scattato intorno alle 5 all'ingresso dei primi addetti per il turno della mattina. Tutta la documentazione è stata raccolta dai carabinieri che stanno conducendo le indagini, la prima stima dei danni subiti si aggira tra i 10 e i 20 mila euro. Un episodio che ha lasciato più di qualche dubbio. Gli autori non hanno toccato infatti i mezzi, ne hanno rubato i molti oggetti di valore negli uffici e nell'officina, portando via soltanto 79 euro del fondocassa ed una macchina fotografica usata. Al di là dei danni immateriali, questo fatto come è stato vissuto dall'azienda? Ma è stato vissuto con la giusta dose di indignazione e anche un po' di sconcerto, non era mai successo nella storia del Copit, un episodio di questo genere. Ci dicono anche tutti i dipendenti più anziani che da più tempo lavorano in un'azienda che una cosa così non si era mai vista. La reazione dei dipendenti dell'azienda, hanno spiegato i vertici del Copit, è stata immediata. Gli ambienti sono stati sistemati così da poter riprendere già nella stessa giornata di venerdì il lavoro con regolarità, senza che ci fossero ripercussioni sul servizio di trasporto. Io voglio ringraziare a nome della direzione la RSU aziendale che ha deciso di fare un comunicato, una nota di sdegno e di solidarietà nei confronti della direzione, ma dell'azienda tutta, perché la RSU giustamente ha scritto nella sua nota che questo è un episodio che colpisce al cuore tutti i lavoratori, gli uomini e le donne dell'azienda. Quindi un grazie all'RSU aziendale, un grazie a tutti gli uomini e le donne del Copit che stanno reagendo con grande degnità, compostezza e positività a un episodio che va approfondito.